SANA SANITÀ 30 minuti con il professor Andrea Bacigalupo che ha la cattedra all'Università Cattolica di Roma. Professor Bacigalupo, uno scienziato di fama internazionale, è stato primario per molti anni all'ospedale San Martino di Genova, primario di ematologia, e i nostri lungimiranti responsabili della sanità ligure sono stati proprio bravi, se lo sono lasciati scappare. È stata una sceneggiata che aveva molti aspetti e è stata una cosa piuttosto vergognosa. Però tutto il mal non viene per nuocere. La sceneggiata, come è andata? Tre parole, è stata proprio una cosa, possiamo dirlo? Pensavo che dovessimo parlare di novità in campo delle terapie cellulari. Ma diciamo che non si sono realizzate le condizioni per venire all'Università qui a Genova e contemporaneamente un anno fa l'Università Cattolica di Roma mi ha offerto questa cattedra. Quindi dopo un po' di ripensamenti, di dubbi, ho pensato che poteva essere un'occasione e quindi ho accettato. Ecco, è stata una motivazione molto diplomatica e molto signorile da signori qual è lei. Vi dicevo, non tutto il mal non viene per nocere, perché ora lei è stato ingaggiato dall'Università Cattolica di Roma e ci spieghi un po' il laboratorio, la collaborazione con l'ospedale Bambini Gesù. Ci faccia un po' un quadro. Sì, cominciamo col dire che negli ultimi due anni è successa una rivoluzione nel campo delle terapie cellulari, ovvero dopo tanti anni di esperimenti francamente non di grande successo, perdiamo di almeno dieci anni, finalmente la cosiddetta ingegnerizzazione, cioè la modifica genica delle cellule T, dei linfociti dei pazienti, è stata resa possibile, non solo, ma si è dimostrato che utilizzando le cellule del paziente modificate geneticamente era possibile uccidere cellule tumorali nel paziente, cioè una cosa veramente straordinaria e capofila di questa, chiamiamola rivoluzione, è l'Università di Pennsylvania a Philadelphia, dove hanno fatto circa 200 pazienti ormai con questa terapia, dove la percentuale di guarigione in leucemie refrattarie, quindi leucemie acute che non hanno più alcuna possibilità di terapia, è del 90%. Quindi un risultato? Un risultato al di là di qualsiasi piuroso e aspettativa. Questo è un sogno che è diventato realtà? Un sogno che è diventato realtà, assolutamente. Quindi tutto il mondo accademico, diciamo, si è messo in moto, in America ci sono almeno quattro gruppi che si occupano in maniera intensiva, in Europa anche, non solo, ma è talmente, diciamo così, rivoluzionario, che anche le case farmaceutiche hanno cominciato a vedere, a pensare di avvicinarsi a questa procedura. Ecco, ricordiamo a chi ci ascolta o chi ci vede che è ben diverso produrre delle pillole o modificare delle cellule, perché le pillole si fanno in maniera industriale con una fabbrica e quindi se ne producono dei milioni, mentre le cellule del paziente sono di quel paziente, quindi si tratta di raccogliere le cellule del paziente, di modificarle e poi di reinfonderle al paziente. Modificare come? Come si modificano queste cellule? In quel laboratorio GPM, GMP? Per modificare queste cellule occorre un laboratorio che si chiama GMP, che vuol dire buona fabbrica, buona produzione, buona produzione manifatturiera, cioè è un laboratorio che ha delle caratteristiche di sicurezza, molto spinte, perché sicurezza? Tanto perché si usano dei virus per infettare le cellule, quindi ovviamente deve essere un ambiente protetto. E poi perché tutto quello che si fa in questo laboratorio deve essere documentato, quindi la grande difficoltà di ottenere l'accreditamento, quindi l'autorizzazione, è la documentazione, tutta la parte normativa. Le leggi sono molto severe in Europa, perché naturalmente potete immaginare che se poi succede qualcosa, un paziente al quale abbiamo tolto le cellule, le abbiamo modificate e poi gliele abbiamo rimesse, immaginiamo che gli trasmettiamo un'infezione, ebbene tutto questo deve essere documentato in maniera assolutamente passo per passo per poter risalire a dove è stato il problema. Quindi è rigorosissimo. Molto rigoroso, diciamo che tutti ricorderete la vicenda cellule staminali, l'inverno scorso, cosa ha suscitato, perché è stato così problematico? Perché queste cellule non venivano prodotte in laboratori GMP, cioè eludevano tutte le regole europee. Quindi la domanda è come è possibile eludere le regole e poi iniettarle nei pazienti? Ma resteranno che si possa arrivare a questo punto? Perché se le persone sono tra virgolette non corrette, diciamo così per non dire disoneste, possono anche fare queste cose, poi sfruttare la richiesta del paziente, il papà che ha il bambino malato farà qualsiasi cosa pur di dargli una possibilità. Però l'Organizzazione Europea della Salute giustamente richiede, esige che ci siano delle regole, delle normative molto stringenti. Ora, l'intervento dei magistrati in quei casi lì dovrebbero essere un po' meno, dovrebbero andare un po' più con i piedi di piombo? Assolutamente, dovrebbero soprattutto riconoscere il fatto che in questo ambito sono necessarie delle competenze specifiche, quindi anche in fatto di legge normativa è necessario che il magistrato che si occupa di questa procedura, che poi dice all'ospedale dovete iniettarle al bambino che è malato, si informi esattamente su quali sono le regole europee. Quindi, per tornare alla sua domanda, la sua domanda che diceva che cosa fate a Roma in questo laboratorio, quindi dicevamo per produrre queste cellule è necessario un laboratorio GMP. Allora l'ospedale Gemelli, Policlinico Gemelli Cattolica, e il Bambin Gesù, che è un ospedale pediatrico molto ben attrezzato, con grandi possibilità economiche, anche risorse umane di grande valore, hanno deciso di fare una joint venture, cioè di insieme, siccome è molto costoso produrre un'attività di questo tipo, hanno deciso di realizzare un laboratorio GMP in comune, ed è quello che stiamo facendo, insieme col professor Franco Locatelli, che è l'ematologo del Bambin Gesù, con lo scopo di andare poi a produrre queste famose cellule manipolate. Col professor Locatelli con cui eravate in contatto da anni anni. Già da prima, ci conosciamo da quando... Lui era a Pavia prima, poi è nato a Roma. Tutti e due siamo, diciamo che siamo quelli che in Italia forse fanno più trapianti, quindi una grande esperienza di trapianti in pazienti ematologici. Quindi è sembrato corretto realizzare questo laboratorio, dove ci sono molte persone già adesso che lavorano tempo pieno. Andiamo all'accreditamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, probabilmente anche entro la fin dell'anno, e speriamo l'anno prossimo di cominciare a produrre queste cellule manipolate. Ecco, queste cellule ce ne sono di due tipi, mi pare, di aver sentito. Ce ne sono di molti tipi. Sia come metodo di manipolazione, lei prima diceva come si manipolano, ci sono varie metodiche per inserire un gene che noi vogliamo inserire dentro nella cellula, veicolato da un virus, e ci sono diversi tipi di virus che possono fare questo. Ci sono anche diversi tipi di cellule che noi possiamo usare come bersaglio per la manipolazione. e naturalmente poi potete immaginare che se queste cellule noi le manipoliamo per riconoscere un tumore, abbiamo detto che nel caso della leucemia acuta linfoblastica questo è il risultato di grande successo, potete immaginare che possiamo provare a manipolarle per tanti altri tipi di leucemie, e non solo, ma anche per delle malattie non ematologiche. Quindi una nuova strada. Quindi si pensa ai tumori solidi anche. Ecco, e quindi, va bene, ora è prematuro, ma arriverà anche l'applicazione su questo. Assolutamente, cioè l'applicazione sul paziente... E voi potete sempre fare, voi siete specialisti in ematologia, ma vi potete nello stesso tempo occupare dei tumori solidi? Beh, per esempio, sempre nell'ambito di questa collaborazione fra il Gemelli e il Bambin Gesù, c'è un ricercatore che recentemente si è aggregato, è stato chiamato dall'Università Cattolica, si chiama Ruggero De Maria, è una personalità scientifica di grande spicco, si occupa di cellule staminali tumorali, quindi il suo campo di specializzazione, in particolare il tumore del colon, dell'ovaio e del polmone. Cioè le staminali tumorali sono quelle che producono il tumore? Sì, il tumore, quindi lui produce la sua specialità è avere degli anticorpi che riconoscono le cellule staminali, non il tumore, le cellule progenitrici del tumore, dicevo colon, ovaio e polmone. Quindi se uno ha, diciamo, questo anticorpo, se uno riesce a inserire in una cellula questa specificità, ecco che la cellula diventa specifica per la cellula staminale del tumore e può ucciderla. Quindi uno scenario meraviglioso, si apriranno delle strade impensate. Assolutamente, diciamo che uno dice sempre, ma come facciamo a sapere se poi questo funzionerà? Il fatto che le grandi case farmaceutiche, come si dice, i big pharma, quindi la Novartis in particolare, che sono giganti, industriali, hanno comprato il brevetto dall'Università di Pennsylvania, già dice quale è l'interesse che hanno già visto, che naturalmente lì ci può, se veramente funzionasse nei tumori. Quindi ci sarà una svolta epocale? Diciamo che in questi ultimi vent'anni abbiamo visto tanta terapia. Abbiamo segnato il passo. Miglioramenti ce ne sono stati grandi, però chi ci ascolta sa che nei tumori solidi, se non si fa una diagnosi precoce, quindi se la chirurgia non avviene in maniera precoce, è ben difficile guarire. Ecco, diciamo che ci stiamo avviando verso una forma di terapia immunologica, quindi di utilizzare i linfociti, che sono quelli che controllano la crescita neoplastica nei soggetti sani, utilizzare queste cellule per uccidere cellule tumorali. Questo mi sembra veramente un passo... Una cosa meravigliosa. E l'aspettiamo... Per finire il discorso, naturalmente, diciamo l'accademia, l'università, e questo vale sia per l'America che per l'Europa, in qualche modo noi vorremmo cercare di essere non totalmente dipendenti dalle case farmaceutiche, perché altrimenti alla fine si compra e basta. Alla fine uno ha bisogno, va, gli deve dare la cifra, ed è una cifra consistente. Quindi bisogna fabbricarcele. Eh, fabbricandole costa molto meno, ovviamente, perché sennò ogni paziente costerà più di 200.000 euro a cada uno. Eh, quindi le case farmaceutiche che hanno annusato... Se hanno comprato il brevetto vuol dire che hanno fatto i loro calcoli. Senta, mi sembrava di aver letto, che me l'abbia detto lei, che serve anche questa procedura contro certe malattie genetiche. Allora, contemporaneamente, diciamo, la capacità nostra di modificare geneticamente le cellule, voi potete pensare che se riusciamo a farlo per i linfociti, per i pazienti che hanno il tumore, potremmo farlo per altre cellule che sono importanti, per esempio in alcune malattie genetiche. Pensiamo alla talassemia, la talassemia che è una malattia chiaramente ereditaria. La domanda è, possiamo curare la talassemia modificando geneticamente le cellule staminali del paziente stesso? Quindi prendiamo le cellule dal paziente, le modifichiamo e le rimettiamo dentro modificate. Ebbene, anche qui la risposta è sì, ma degli ultimi sei mesi. Quindi dopo, diciamo, almeno dieci anni di insuccessi e anche di qualche danno, perché fare questi esperimenti in cellule staminali è molto pericoloso, perché poi se questa cellula è manipolata male e lei gliela rimette dentro, potrebbe anche fare dei danni, come è successo dieci anni fa in un gruppo di bambini a Parigi. Ebbene, oggi invece si cura la manipolazione, si cura il trasferimento, 100% di successo nei primi 4-5 pazienti fatti. Quindi diciamo che è altro passo in avanti, molto grande per le malattie genetiche. Ecco, lei mi parlava che c'erano due tipi di queste cellule, quelle per guarire, per esempio, in ortopedia, nella cartilagine dei ginocchi, oppure per che cosa? Per la chirurgia plastica, per il decubito, per le piaghe da decubito. Ecco, che differenza c'è tra l'una e l'altra? Allora, fino adesso abbiamo parlato di cellule, di cellule che vengono modificate, cellule sempre del paziente, che vengono modificate per uccidere un tumore, un tipo. Poi abbiamo detto che si può anche fare la modifica genetica, può essere anche eseguita su cellule staminali del sangue per le malattie genetiche. Adesso la domanda del signor Mordini è ma si possono anche curare alcune malattie ortopediche o possono essere utili in chirurgia plastica? Quali cellule? Sempre in questi laboratori cosiddetti GMP è possibile crescere delle cellule che noi chiamiamo mesenchimali, che sono delle cellule, diciamo, del tessuto di supporto e che quindi comprende, che va dall'osso alle cartilagini ai tendini, le quali cellule mesenchimali possono essere espanse in vitro, possono essere riniettate in vivo e sono capaci di ricostruire grandi porzioni di tessuto, sia osseo che cartilagineo che tendineo. Quindi certamente in ortopedia potranno essere molto utili. Già adesso c'è un buon utilizzo di queste cellule, è più semplice dell'altro prodotto. Ovviamente è risultato solo di prendere delle cellule. A rapallo fanno qualche cosa sul ginocchio? Ecco, quello che si fa di routine adesso in ortopedia si usano il cosiddetto gel piastrinico, cioè si usa il sangue del paziente concentrando nella parte piastrinica e poi si inietta questo gel nella zona dove per esempio c'è un'infiammazione e con risultati abbastanza buoni. Questo è abbastanza semplice, abbastanza facile farlo ed anche abbastanza di successo. Se lei invece prende delle cellule da un cordone umbilicale, le espande in vitro e poi le inietta in una situazione di fratture, eccetera, è più complicato e richiede una GMP. Quindi richiede molto... Sempre il laboratorio, quello accreditato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Senta, il trappianto di midollo osso sarà abbandonato? No, questa è una domanda molto... Mordini è sempre attento. Lui dice, ma insomma, se io uso le cellule del paziente stesso per curare le leucemie e i tumori, che cosa me ne faccio? Delle cellule sane di un altro. Allora, una risposta semplice potrebbe essere sì, se tutto questo funzionasse in maniera rutinaria, è possibile che si possa effettivamente ridurre molto il numero dei trappianti. Questo vale per alcune forme di leucemia. Noi pensiamo che alcune leucemie o alcuni tumori hanno talmente tante alterazioni che non è possibile ucciderle con un tipo solo di cellule. Ce ne vogliono molte. Quindi il limite della terapia che abbiamo fino adesso discusso è che uccidono un tipo di cellula tumorale. Ho capito. Ma oggi sappiamo che i tumori sono composti in realtà di diversi tipi di cellule tumorali. Una specie di famiglia di cellule... Ma diversi da individuo a individuo? No, 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 nello stesso individuo. Cioè, nello stesso individuo ci sono più cloni. Una volta pensavamo che il tumore fosse tutto figlio di un'unica cellula che si era impazzita, si diceva. Oggi sappiamo che in realtà è un accumulo di errori che di solito accumuliamo con l'età. Tanto più avanti andiamo e tanto più errori genetici accumuliamo. Ma questi errori si sviluppano come una famiglia di cellule tumorali delle quali una magari dal tumore primitivo ma quando abbiamo la metastasi è un'altra, una cugina che ha dato la metastasi con caratteristiche diverse non del tutto, ma in parte diverse. Quindi bisogna avere una specie di armamentario per colpirle tutte perché se uno ha soltanto la specificità per una colpisce solo quella e poi quando c'è la metastasi quell'altra le scappa. Quindi diciamo che il limite della terapia cellulare potrebbe essere la diversità delle cellule tumorali leucemiche ed ecco che in questo caso invece il trapianto di midollo dove uno dà tutti i linfociti del donatore è ovvio che stiamo dando tutto il repertorio e lì prende tutto prende tutta la famiglia, i cugini, i nipoti delle cellule tumorali le prende tutte e questo è meglio. Quindi diciamo che come al solito ci potrà essere una buona collaborazione il gruppo di Washington dell'Istituto Nazionale Americano che ha un forte programma di terapia cellulare con cellule modificate ha scritto recentemente che loro pensano che ci sarà un utilizzo combinato di terapia cellulare di trapianto quindi utilizzare le cellule di un soggetto sano prima o dopo aver utilizzato cellule invece del paziente stesso modificate. Io spero che con queste ricerche e con queste attività si riesca a risolvere quei grossi problemi che io ho sentito da quando avevo i calzoni corti dicevano tra 20 anni il tumore sarà debellato e invece non è stato debellato niente sono passati moltissimi anni speriamo che con questo scatto in avanti si riesca ancora qualche cosa lei è sempre in giro falpicione viaggiatore è stato in Giappone mi pare a Berlino ma che cosa vi dite in questi congressi? Beh diciamo che questi congressi internazionali sono necessari per condividere non solo i dati che uno può anche scrivere lo dice uno legge la rivista ma quello che sta dietro ai dati quindi le difficoltà quindi i problemi per esempio le malizie i dettagli che magari non si riescono tutti a percepire da una rivista da uno scritto è molto più efficace parlare direttamente con il responsabile della ricerca e quindi in questi incontri è un condividere esperienze progetti anche gettare le basi per dei progetti comuni molto spesso nessun centro ha abbastanza pazienti per testare un'ipotesi ecco che insieme possiamo farlo un lavoro comune e naturalmente come tutti potete immaginare poi guardarsi negli occhi cambia le cose non è come leggere una cosa c'è una c'è una fiducia c'è un rispetto si capisce la profondità del pensiero sentendo le presentazioni alcune presentazioni io quando sono a un congresso e c'è una presentazione di livello elevato penso che è come andare a un concerto di una bellezza di una fascino assolutamente e poi uno esce e pensa comincia è tutto materiale per il ragionamento per dire ma come posso utilizzare queste informazioni per dare un prodotto migliore al nostro paziente quindi io dico che al nostro paziente che è seduto davanti a noi che ha bisogno di una terapia è difficile che in questa stanza possa esserci tutto bisogna uscire da questa stanza uscire dalla nostra città uscire dal nostro paese andare in giro per il mondo e cercare di condividere queste esperienze così cruciali mi pare che lei abbia pubblicato su riviste internazionali ultimamente current opinion in nematologi mi pare di aver sentito ci parli un po' di queste pubblicazioni beh questo in particolare a cui fa riferimento il Sambordini è un numero monografico tutto dedicato alle terapie cellulari quindi abbiamo voluto fare il punto della situazione del mondo in questa terapia cellulare e quindi abbiamo 4-5 gruppi americani 3-5 gruppi europei che hanno scritto cosa stanno facendo quali sono i progetti quali sono i problemi quali sono i risultati e quindi danno un'immediata lettura di come stanno oggi le cose in questo campo così difficile così competitivo così complicato e così costoso a dicembre ci sarà il congresso negli Stati Uniti è vero fra un mese a dicembre prima settimana c'è sempre il congresso lei andrà certo c'è il congresso che è dalla società americana che poi è in realtà il congresso chiamato un po' mondiale perché c'è tutto il mondo 30.000 20-30.000 partecipanti dove le presentazioni in seduta plenaria sono di grandissimo livello io credo che sia molto difficile adeguarsi a questi grossi congressi perché faccio un paragone stupido ma io quando vado a qualche fiera di ferramenta ci sono centinaia migliaia di espositori e si rimane sconcertati scombussolati anche lì quando sono così tanti come fate? avete già un programma c'è un programma poi ognuno va a sentire va nell'area che diciamo certamente della quale è competente nella quale bene una domanda un po' diversa che non ha niente da vedere con la scienza mi pare che lei abbia avuto sempre dei collaboratori sempre donne la maggior parte la domanda a San Martino era così no? le più erano donne a Roma sono sempre donne o ci sono anche uomini? e per quale motivo lei sceglie sempre le donne? il fatto è che forse chi ci ascolta e chi ci segue non sa che gli studenti di medicina credo che siano al 70 se non all'80% donne quindi c'è una grande prevalenza femminile nelle specializzande quindi quelle che sono le giovani leve diciamo e quindi naturalmente quelli che poi arrivano alla così alle posizioni ospedaliere o anche universitarie molto ci sono molte molte ragazze devo dire che poi le ragazze con cui ho lavorato sono magnifiche bravissime quindi un grande piacere i 30 minuti sono passati e dottor professor Bacigalupo io la ringrazio lei ci ha riempito di gioia e ci ha dato delle speranze e anche tutti i telespettatori io credo che apprezzeranno io la ringrazio ringrazio il nostro regista Alex Appollaro sono io che ringrazio lei e noi speriamo di concludere questa ricerca su queste cellule e quello che non abbiamo detto è che cerchiamo in tutti i modi di creare una collaborazione fra Roma e Genova per poter applicare poi sia a Roma che a Genova ne parleremo nella prossima puntata ai telespettatori do appuntamento buonasera arrivederci grazie appuntamento alla prossima settimana a Grazie a tutti.